Ciao a tutti, oggi prepareremo il contorno di patate e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono patate tagliate a cubetti, piselli, acqua, sale, pepe, olio e prezzemolo. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello con le patate e i piselli, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità a 2. I piselli e le patate sono cotte, trasferire in una ciotola copiente e condire con olio, sale, pepe e prezzemolo dritato. Contorno di patate e piselli. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.